Ci troviamo questa mattina in compagnia del Presidente del Consiglio di Taormina, Antonio Daveni. Si è appena conclusa la prima giornata di una conferenza europea contro l'euroscetticismo. Presidente, una breve considerazione sull'importanza e sul valore di queste giornate che vedono Taormina impegnata a livello europeo dopo l'importante avvenimento del vertice dei capi di Stato del G7. Bene, intanto ringrazio lei per la breve intervista e ringrazio tutti coloro i quali hanno pensato a Taormina per organizzare questo importante evento che sicuramente serve da momento di riflessione per quello che si sta vivendo in questo momento in Europa. Stanno nascendo molte situazioni che portano ad avere dei dubbi sull'essere uniti, sull'andare avanti come si è andato avanti finora. Si è dato per scontato che creare un'Unione Europea tutta assieme con i 28 Stati che ne fanno parte bastava metterli assieme e si poteva andare avanti. Adesso invece i problemi si stanno pian piano verificando e quindi va fatta una serie di riflessioni e questi momenti come quelli di stamattina sono utilissimi per capire cosa si deve fare. Taormina è stata al centro del mondo per il G7. Taormina si ritrova ad essere centro europeo in giornate come questa. Taormina quale contributo pensa di poter dare in questo periodo ma soprattutto anche nel futuro perché comunque si toccano tematiche che si svilupperanno e si spera che miglioreranno appunto nel futuro. Taormina che cosa pensa di poter dare, che cosa può dare soprattutto? Taormina come sempre è città d'incontro, città in cui varie civiltà, vari stati si incontrano, vari cittadini si incontrano, dialogano, si confrontano e quindi Taormina ha il ruolo di unire quelli che sono i vari soggetti, i vari cittadini del mondo. E' uscita benissimo dal G7 dove Taormina ha dato quel lustro al G7 che non si aspettava. Si pensava che fosse predominante l'incontro, l'evento e i sette grandi, in realtà il predominio è stato della città stessa che è stata veramente la protagonista di tutto. Domani si sigla il patto di fratellanza fra queste delegazioni europee che oggi sono ospiti e visiteranno la città di Taormina. Da questo patto che cosa dovrebbe venire fuori, proprio di forte, di saldo? Sicuramente nascerà e uscirà un documento unico che sarà momento di riflessione e che probabilmente anche nel prossimo G7 che pare si organizzerà il G7 dei Ministri a novembre potrebbe anche essere prodotto in quell'occasione come punto di riflessione e di incontro o di riflessione diciamo sull'argomento. Noi Presidente la ringraziamo del suo tempo, sappiamo che adesso dovrà far da Cicerone anche lei come l'intera amministrazione alle delegazioni presenti, quindi la licenziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie, è un vero piacere, grazie.